Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Mentre il governo della destra bluette neoliberale filoatlantista e filobancaria di Giorgia Meloni continua a compiere indefessamente le proprie malefatte, la sinistra risulta sempre più nel caos, anzi la sinistrasce come l'ho definita nel mio libro intitolato appunto sinistrasce. La new left dell'arcobaleno risulta oggi l'opposizione peggiore che possa esservi e anzi io sono convinto che Giorgia Meloni, nonostante le malefatte continue del suo governo, continui ad avere consenso proprio in ragione del fatto che dall'altra parte all'opposizione vi sono figure e programmi del tutto inassimilabili e irricevibili. A questo riguardo si parla adesso di un possibile campo largo della sinistra tale da includere Conte, Beppe Grillo, Matteo Renzi e chi più ne ha più ne metta. Ora in questo modo la sinistra pensa evidentemente di potenziare il proprio consenso e non si avvede del fatto che questa ammucchiata, non saprei definirla con altro termine, porterà a una perdita ulteriore di voti, a un'emorragia ulteriore di consensi, perché la sinistra potrebbe ripartire solo se presentasse un programma credibile centrato sul tema del lavoro, sul tema dell'opposizione all'imperialismo, sul tema della dignità sociale, ma noi sappiamo bene che la sinistra in questo è per un certo, da un certo punto di vista anche più radicale della destra stessa nel difendere il capitale, l'imperialismo e l'interesse dei gruppi cosmopoliti dominanti. Ecco perché, non mi stanco di dirlo, non chiamiamola sinistra, va chiamata sinistras.